Prologo Campo da San Giovanni, 19 agosto va in scena la non edizione della Cucina Contadina Ricette Dimenticate. Vi aspettiamo qui in Piazza San Francesco per gustare tutto quello che facevano le nostre nonne, le vostre zie, le vostre mamme qualche tempo fa. Noi siamo qua, vi faremo gustare i prodotti tutti al naturale, siamo qua a Campora, a Piazza San Francesco e vi aspettiamo il 19 di agosto, Prologo Campo da San Giovanni. Grazie a tutti.